Mentre la squadra di Perrone sta preparando nei minimi particolari la gara di andata dei play-out contro i Rimini del prossimo 21 maggio, nelle ultime ore si è alzato un nuovo polverone in Casa L'Aquila. Ad accendere la miccia è stato l'ex terzino Cristian Chirieletti, fresco di rescissione dopo lo screzio avvenuto in aprile con alcuni tifosi aquilani, a seguito della sconfitta contro il Siena nelle vicinanze dello Stadio Fattori. Un tafferuglio costato al giocatore il daspo, pene inflitta anche a suo padre e adotto ultra rosso-blu. Chirieletti ha voluto commentare sulle colonne di una testata online il comportamento del club rosso-blu, spiegando come l'Aquila abbia raccontato solo cose convenienti, quando invece mi dicevano di star tranquillo perché avevano parlato con i tifosi e chiarito il tutto. Poi mi hanno invece comunicato che il contratto era rescisso, senza spendere una parola, senza chiarire mai niente, quando invece sarebbe bastato un reale colloquio con i tifosi. Non è tardata ad arrivare nel pomeriggio di ieri la piccata risposta del club, per voce dell'amministratore unico Antonio Ranucci. L'esternazione di Chirieletti, oltre ad essere stata inopportuna, contiene anche molte inesattezze. La situazione ambientale lo preoccupava molto. Di fronte a questa e ad altre inconfutabili motivazioni, il giocatore ha spontaneamente accettato l'evidenza per la quale non vi erano più le condizioni per proseguire il rapporto. Ci siamo salutati affettosamente, con la promessa da parte mia che se avessi potuto favorire una conciliazione di natura giudiziaria tra il giocatore e i suoi familiari di tifosi, lo avrei fatto. Ribadisco l'infondatezza e l'inopportunità delle sue parole, con le quali ha riportato male i fatti nei quali, volente o nolente, è parte integrante. Intanto, sul fronte squadra, l'Aquila giocherà domani un amichevole in famiglia con la Berretti. Sarà l'occasione per valutare il pieno recupero degli infortunati, tra cui il centrale difensivo Emanuele Pesoli, tornato in settimana stabilmente in gruppo.